Mi sento molto curioso, dovrei dire preoccupato, ma in realtà dico curioso. Ho accettato di fare questa follia di andare in scena senza sapere cosa accadrà perché non sono un attore, non sono mai andato in scena, quindi questa probabilmente è la prima e ultima volta in cui recito e non volevo perdere questa occasione di mettermi in difficoltà.